Il cosiddetto mercatino in svolgimento al centro sportivo Riazzano San Paolo continua a tenere vivo ogni martedì e venerdì sera l'interesse degli operatori del calcio provinciale bergamasco e tra le società che si stanno muovendo per allestire una rosa competitiva c'è anche il Ponte Ranica pronto ad allinearsi per l'ottava annata consecutiva ai nastri di partenza del campionato di promozione dopo una stagione che ha riservato qualche patema per una salvezza che comunque non è mai stata messa in discussione. Ci siamo salvati comunque alla penultima giornata non mai rischiando i playoff certo è che quest'anno vorremmo salvarci con più tranquillità e stare comunque in una zona molto più tranquilla rispetto a quest'anno. Abbiamo cambiato diverse pedine, puntiamo soprattutto sui giovani, sull'entusiasmo di questi ragazzi con qualche esperto e partiamo anche con un allenatore nuovo che ha molta voglia di far bene che è Fabio Drago. Ha fatto quattro anni di settore giovanile però ha fatto quattro anni da vincente e quindi credo che sia anche per lui giunto il momento di fare un'esperienza in prima categoria e speriamo che faccia bene sia per noi ma soprattutto anche per lui. Comunque non dimentichiamo che come direttore sportivo quest'anno è avvenuto anche Adriano Tassis ed è sicuramente un bagaglio di esperienza in più che assieme possono dare a una formazione giovane come può essere la nostra.